Ciao ragazzi, siamo tornati e sono molto contenta perché questo è un allenamento non solo per i tricipiti, il famoso vele, che sono la cruce di tutte le donne, anche noi sportive, ma il fatto è che la possiamo fare da seduta, così per tutte le mie amiche che non possono allenarsi in piedi per qualsiasi motivo, perché siete incinte o avete mal di schiena o qualunque problema, da seduta non ci sono più scuse. Ok, così abbiamo bisogno di un elastico, l'elastico può essere o preso in un negozio sportivo o altrimenti potete oggi utilizzare una paia di calze, ok, proprio una paia di calze utilizzate e andiamo a portare con il braccio destro indietro la nostra testa, con la sinistra lo ancoriamo appoggiando la mano proprio sulla sedia sotto di noi, così ancora, così non si muova di più. Estendo il braccio completamente in su come se stessi provando di toccare il soffitto, estensione completo, provo di sentire l'energia del mio tricipite che sta raggiungendo gli articoli, va verso alto ancora, 4, 3, 2, 1, continuiamo, 1, 2, continuo allungo, 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 5, 6, 7, 8, se è troppo teso potete allungare il vostro elastico, se è poco teso potete accorciare il elastico, ottimo, 8, 7, 6, 5, ottimo, 4, 3, 2, e cambiamo braccio. Ma guardate come io cambio braccio, mi giro, sopra la testa la prendo, senza fare giri strani con le mie spalle, con la mano destra mi ancoro l'elastico giù a terra e continuiamo in su. Dobbiamo fare 4, 8, continuo in su, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altre 3, 8, l'estensione come se stessi veramente provando di toccare il soffitto con la mia mano. Ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimissimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Lascia l'elastico giù sulla sedia per un attimo, andiamo a fare i dips. Vengo in avanti, ok, mi stacco dalla mia sedia e scendo a fil di piombo giù e risalgo, spalle rimangono indietro, giù, and su, 2, su, 3, ancora, 4, 5, 6, 7, and 8, relax. Tornate indietro perché questi sono i movimenti, quando usiamo proprio il peso del corpo sono più impegnativi, ok. Adesso portiamo dietro il nostro collo, il nostro elastico, si incastra proprio sulle braccia, ok, proprio sulle braccia e stendo in giù, 1, 2, stendo, 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 allungo il braccio, allungo il braccio, allungo il braccio, allungo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stendo le braccio, stendo le braccio, spingo verso l'alto, spingo con le braccio tese, palmo rivolto verso il soffitto, 2, e 1, e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and relax. Ok, ricupere il vostro elastico, prima serie andata, però adesso cominciamo con il nostro braccio sinistra su e la nostra destra ancorata giù sulla sedia, ok, cominciamo con la nostra estensione verso alto, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e 2, 2, and relax, cambiamo, sempre con molto calma, ricordate che non vogliamo mai stressare le nostre spalle, ok, 1, 2, e vai su, ok, come stessi provando di toccare il soffitto, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e ci mancano, 2, 8, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, lascia, ok, ci prendiamo la nostra sedia, scivoliamo fuori, dobbiamo fare solo 8, ma scendo proprio a fil di piombo, giù e spingo in su, 2, su, spalle indietro, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, e 8, torni su, ricupero, prende il nostro elastico, passa proprio dietro il nostro collo, e sulle spalle, così abbiamo proprio una bella presa, lo prendo corto, porto il busto in avanti, ok, gomiti stretti indietro, vado in allungamento, ok, aspetta, lo ricupero i capelli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altre 8, in estensione, verso basso, verso basso, ancora, 4, 3, le braccia rimangono tesi, and, tesi su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiudiamo la braccia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, cominciate a sentire questo lavoro, sta funzionando bene per le vostre braccia, ok, terza serie, andiamo in su, mi raccomando, prendete una bella presa, questo lo sentirete tantissimo, cominciamo l'estensione verso su, ok, continuo, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, altri 2, 8, a me piacciono questi esercizi perché ci permette veramente di avere tanto risultato, anche da seduta, portate l'elastico con te al lavoro, perché no, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo braccio, perché così, in 10 minuti, 10 minuti di lavoro, comunque hai fatto qualcosa, comunque ti stai lavando la coscienza, ok, continuo, ancora 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e torniamo in centro, dips, ultimo 8, dips, lo senti come stai lavorando proprio bene i tricipiti, per tutti quelli che vogliono avere il tricipite più tonico, più sodo, abbinate magari un tessuto intelligente come Be Good, che è il Cosmetics, che ci aiuta proprio a tonificare, rassodare la pelle, è gioco che è fatto, dobbiamo fare 8, scendo a piombo, 6, 7, 6, grandi sorrisi, 5, 4, 3, 2, e 1, abbiamo così finito ragazzi, state facendo un grandissimo lavoro, 10 minuti di tricipite, incastro il mio elastico, comincio a stendere indietro di me, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e tesi tesi, su, spingo, 3, grandi sorrisi, 4, 3, 2, e chiudiamo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ricordate sempre che quando dovete rilassare o riportare le braccia al, diciamo, in riposo, di non farlo di scatto, di non farlo bruscamente, perché comunque i muscoli sono stati allenati, i muscoli sono stati stancati, non vogliamo mai esagerare, ci passi sempre per centro, si passa sempre con calma, specialmente alla fine dell'allenamento. Bravi, abbiamo fatto un grandissimo lavoro per i nostri tricipiti, qui seduti, così va bene per tutti quanti, ricordate, con elastiche possiamo aumentare, accorciando l'elastico, la nostra intensità, o diminuire l'intensità allungandolo, così è un attrezzo gilico che va bene assolutamente per tutti, uomini e donne incluse. Vi aspetto con il prossimo allenamento insieme qui su Now, grazie tantissimo, è passata una giornata splendida. Ciao da Jill.